Il meteo vi è offerto da Ben ritrovati da meteoincalabria.it Continua la fase anticiclonica sul Mediterraneo centrale Leggermente scalfita nelle prossime ore Da un debole flusso instabile occidentale Proveniente dal mar Tirreno Torneranno così occasionali piogge Su alcune aree della nostra regione Diamo lo sguardo ora alle previsioni in dettaglio Oggi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque Salvo parziale annuvolamenti lungo i versanti tirrenici Che dovrebbero apportare deboli piovaschi Tra Lamettino e Vibonese in serata Temperatura stazionaria Domani nuvoloso al mattino sui versanti tirrenici Con possibili piogge tra deboli e moderate Specie su Lamettino e Vibonese Parzialmente nuvoloso sui settori ionici Migliora dal pomeriggio con ampie schierite Che si faranno largo a partire da nord Temperatura in graduale diminuzione Passiamo ai mari e venti Oggi venti deboli da maestrale sul Tirreno Con mare poco mosso Deboli direzioni variabili sullo Ionio crotonese E il Golfo di Corigliano Con mare quasi calmo o poco mosso Poco mosso lo Ionio catanzarese e reggino Con ventilazione debole occidentale Domani avremo maestrale moderato sul Tirreno Con mare tra poco mosso e mosso Mosso il settore Vibonese e Reggino Ventilazione settentrionale sullo Ionio Con mare poco mosso Ma con moto ondoso in aumento Tra Golfo di Corigliano e settore crotonese Per ulteriori approfondimenti Vi rimando come sempre al nostro sito web www.meteoincalabria.it E la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria Per oggi è tutto Grazie per la cortese attenzione Appuntamento a domani Grazie per la cortese attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti